Il mio nome è Nessuno, narra per la prima volta l'intera avventura dell'eroe dell'Odissea, del re di Itaca, per la prima volta dalla nascita fino all'ultimo misterioso e mai scoperto ultimo viaggio. Sono stati studiati e ricomposti elementi perduti del grande ciclo epico che raccontava la guerra di Troia e i ritorni degli eroi dalla stessa guerra, ritorni amari, la più parte, ritorni tristi o drammatici, tra cui appunto quello di Odisseo o Ulisse come lo chiamiamo noi. In questa situazione noi cerchiamo di dare un'idea di questa grande avventura, di questo lungo e grande racconto, per la prima volta ricucito in tutte le sue parti, con una serie di letture, letture possiamo dire anche animate. C'è una voce, che è quella di chi vi parla, che inquadra l'intera vicenda, che inquadra il secolo degli eroi, l'età del bronzo, l'età che assistette al conflitto più grande dell'antichità profonda, la guerra troiana. E poi in seguito appunto il ritorno e il leggendario ultimo viaggio. Ci saranno degli attori, ci sarà Massimo Ghini che darà la voce al re di Itaca, la sua voce. E ci sarà la bellissima Isabella Adriani che sarà la voce di tutte le donne di Ulisse Odisseo, e cioè di Atena, che è la dea che lo protegge, che lo ama di un amore virginale. Circe, la maga. Calipso, la dea misteriosa che vive in un'isola ai confini del mondo. Penelope, la sposa fedele che mai ha disperato del suo ritorno. Sarà una grande emozione.